A Scimta ci ha chiesto al Parlamento kosovaro di decidere sull'istituzione di un tribunale speciale sui presunti crimini dell'UCC durante la guerra. Il voto dovrebbe svolgersi la settimana prossima. Il primo ministro dell'ex provincia serba, che al cimitero ha reso omaggio ai combattenti di etnia albanese, ritiene ingiuste le accuse del Consiglio d'Europa. I guerriglieri dell'esercito di liberazione del Kosovo avrebbero prelevato organi alle vittime serbe. È un'ingiustizia nei confronti dei sacrifici e della lotta dei cittadini kosovari. Ma il Parlamento del Kosovo rispetterà le decisioni e criteri internazionali e lavorerà per approfondire la cooperazione con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea. Il rapporto del Consiglio d'Europa del 2010 faceva il nome dello stesso taci che dell'UCC fu uno dei leader. Unione Europea e Stati Uniti minacciano il ricorso al Consiglio di sicurezza dell'ONU se la Corte di giudici stranieri non sarà istituita. Grazie. Grazie.